Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, la Tua azione mediatrice e salvatrice nel mondo è testimoniata dalla storia. Una storia meravigliosa che ha il suo simbolo più espressivo nei Tuoi numerosi santuari. Sono ancora vive migliaia di persone che hanno constatato con i loro occhi il Tuo intervento. Ovunque sei miracolosamente presente ogni giorno, si avverte subito la Tua presenza. Tu chiami gli uomini all'amore, alla pace, al cielo. Dio ha creato un mondo meraviglioso per la nostra gioia. Troppi continuano ancora a rifiutare Dio, a tradire Cristo. Non avremo la pace, non conosceremo la gioia che sorride, palpita e splende in ogni cosa se non ritorniamo a Dio, se non ci affidiamo a Te. Maria, Dio si serve di Te per parlare agli uomini, per soccorrerli, per salvarli. Ritorna in mezzo a noi, dolcissima sorella. Richiama gli erranti sul retto sentiero. Rissana la società dalla cancrena del peccato. Mostra agli uomini la bellezza della virtù, il messaggio evangelico che salva. Attiraci a Te e portaci al Tuo Gesù che è via verità e vita. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.